Ciao sono Samuele, benvenuto in questo nuovissimo video. Se non mi conosci io sono il fondatore di dropshippingkeys.com dove aiuto le persone come te a partire da zero, costruire uno store dropshipping e portarlo alle fasi di scaling. All'interno del video di oggi voglio parlarti di come ho fatto oltre 15.000 follower in un mese su TikTok partendo totalmente da zero e ti spiegherò anche tutto quello che ho capito, che ho imparato nel mio percorso partendo ripeto totalmente da zero, testando un sacco di cose, cercando di capire quello che piace a TikTok, come funziona un po' l'algoritmo in modo tale che puoi andare a replicare anche per quello che sarà che può essere un tuo eventuale store dropshipping da avviare e spingere utilizzando questa piattaforma. Infatti sul mio canale ne ho già parlato in un paio di video che ti lascio qua sotto e che quindi poi puoi andare a recuperare dove mostro effettivamente degli store o comunque dei profili di TikTok su uno store dropshipping di un prodotto che vanno virali o magari che insomma fanno dei buoni numeri che mi trovo nei per te e quindi cerco di capire perché sono andati così bene, che tipo di numeri hanno fatto e quindi farvi capire anche come poter replicare. Un esempio molto molto recente diciamo di questo momento è che due o tre giorni fa sono andato letteralmente a postare su Instagram una storia dove ho detto ho trovato questo nuovo profilo insomma nuovo relativamente però ho trovato questo video che sta andando appunto virale stava facendo in quell'esatto momento 380-400.000 visualizzazioni l'ho consigliato sono andato a controllare un giorno dopo il video era già un milione e quattro di visualizzazioni quindi qualcosa di veramente veramente assurdo. Se è salito ancora ve lo lascio qua di fianco resta il fatto che quello è già un numero incredibile, un milione di visualizzazioni in più su un video di un prodotto, di qualcosa che stiamo vendendo sono veramente un sacco e inevitabilmente hanno portato un sacco di vendite anche a quel dropshipper. Prima di partire quindi di buttarci su quelli che sono i punti quello che ti consiglio di fare o quella che se non altro è stata la strategia che mi ha portato a fare questo risultato sappiate che ho intenzione di partire con una sfida di 7 giorni di TikTok per farvi vedere tutto l'intero processo che vado a fare partendo totalmente da zero su un profilo nuovo e in 7 giorni cercare di arrivare insomma dove riusciamo con magari un obiettivo di 1000 follower che non sarebbe male. Se sei interessato a vedere questa challenge ti invito a lasciarmi un mi piace da subito, lasciarmi un commento, farmi sapere semplicemente se insomma questa sfida ti può interessare così che l'andrò a preparare e poi quindi successivamente l'andrò assolutamente a postare. Quindi adesso qui di fianco ti farò vedere un paio appunto di screen di quelli che sono i due profili che ti vado a mostrare e ovviamente avrei anche dell'altro materiale da farti vedere ma essendo che per esempio profili dei miei store non li faccio vedere chiaramente per una ragione ovvia allora non ha neanche senso parlarne perché non posso farti vedere i numeri quindi andiamo a ragionare su qualcosa che anche tu direttamente puoi valutare che sono il mio profilo personale e il profilo mio sempre della mia pagina. Quindi ti faccio vedere per esempio il primo profilo che è il mio personale che è oggi a 4.600 follower e 28.500 mi piace totali. Questo è un profilo diciamo personale appunto dove mostro quello che parlo anche su questo canale ossia dropshipping e e-commerce. Mentre l'altra pagina che ti faccio vedere l'altro profilo è la mia pagina obiettivo un milione della quindi del mio profilo Instagram obiettivo un milione che è a 12.400 follower con 260.000 mi piace. E diciamo che quando sono partito per bene a testare con TikTok ho anche messo all'interno del mio corso Dropshipping Keys 3.0 un paio di lezioni sia su come postare contenuti sulle strategie che funzionano per crescere e anche su come trovare prodotti o ancora di più come trovare influencer e pagine che siano virali che possano funzionare per utilizzarle a lanciare il nostro prodotto. E quindi da qui mi collego al fatto che se sei interessato a creare uno store Dropshipping trovi in descrizione Dropshipping Keys 3.0 così che puoi avere supporto costante per quello che è il tuo percorso, oltre 120 lezioni dalle basi alle fasi avanzate e delle dirette settimanali di Q&A e coaching dove appunto insomma ricevi supporto costante e domande alle tue risposte, check del tuo store, check delle tue ads. Insomma se vuoi partire qua sotto trovi il mio corso completo per poterlo fare ripeto con tanto di supporto. Quindi adesso parliamo un po' più nello specifico di questi profili e capiamo anche quali sono state le cose che ho imparato, che ho capito di TikTok per cui appunto questa piattaforma è inevitabilmente sicuramente da andare a sfruttare. Questa infatti è la migliore piattaforma ad oggi per andare virali, crescere di follower, che sia il tuo profilo personale o il tuo store Dropshipping. Il senso di questa cosa è che effettivamente oggi non esiste nulla come TikTok che ti faccia e che ti permetta di avere molte molte visualizzazioni e quindi un impatto reale e ripeto andare virale come appunto nessun altro nel senso che YouTube oggi è molto competitivo, è molto complicato crescere, su Instagram ancora meno, cioè non vediamo mai nascere delle star diciamo così su Instagram. Nascono su TikTok e poi utilizzano Instagram come piattaforma più che altro come diciamo per mantenere il rapporto con i follower. Infatti se ci pensi anche tu su TikTok quello che succede è che metti 3-4 balletti, magari prendo un esempio a caso, vai virale e quindi da lì porti le persone su Instagram con cui mantieni un rapporto costante grazie ai post, grazie alle storie. Infatti per esempio anche Instagram ha messo i Reels, YouTube ha messo gli Shorts, se non li hai visti insomma sono la copia diciamo dei TikTok appunto dell'app, per andare a fare lo stesso concetto, cioè il discorso di questa comunicazione molto immediata, molto rapida, scoprire nuovi talenti, nuove persone da seguire e farlo di conseguenza. Però invece di contro TikTok non fa quello che riesce a fare appunto Instagram, quindi nuovamente è una piattaforma perfetta per andare virale, poi bisogna essere bravi a diciamo veicolare tutto quel traffico, quel pubblico su un fine che può essere uno store o un profilo Instagram per continuare a diciamo portare alla conversione i nostri clienti. Questo perché su TikTok se non sai come funziona la home page è molto molto semplice, quindi l'home page è divisa in seguiti, quindi le persone che stai seguendo e i per te. La realtà dei fatti è che la stragrande maggioranza delle persone utilizza solo la tab dei per te perché è letteralmente infinita e puoi scoprire un sacco di persone nuove. La tab dei seguiti invece è una cosa che anch'io personalmente non utilizzo mai, non mi viene proprio da utilizzare. I per te sono estremamente comodi perché continuo a vedere trend diversi, trend nuovi e persone nuove e è anche il fatto per cui se vado a vedere nei miei video che sono andati meglio il 99% o oltre il 90-95% se non altro deriva da sempre i per te, quindi anche che ho adesso 12.000 follower sulla pagina comunque i post e i video che vanno meglio vanno meglio grazie ai per te. Quindi la prima cosa che ho capito è che tante interazioni del nostro contenuto in poco tempo aiutano il post a volare, diciamo in questo modo. Nel senso questa era una cosa che funzionava anche su Instagram, probabilmente funziona ancora così su Instagram, ma ripeto adesso parliamo di TikTok e qui nel momento in cui tu vai a postare un video non è che i per te sono random o TikTok non ti manda mai. Da quello che ho capito ogni video viene testato sul per te di alcune determinate persone. Se appunto queste persone che vedono il tuo contenuto fanno interazioni, mettono like, mettono commenti, allora TikTok percepisce, capisce che quello è un contenuto di valore e quindi lo spingerà sul per te di molte più persone, su molte altre applicazioni insomma, e quindi su un target molto più ampio di persone così che più persone lo vedono, di conseguenza fanno più interazioni e quindi continua questo ciclo di viralità infinito. Quindi una cosa importante sarebbe quella di dare un motivo per cui le persone dovrebbero commentare, lasciare mi piace, oppure penso qualunque tipo di azione, come per esempio vedono il tuo contenuto, vanno sul profilo. Sicuramente TikTok percepisce tutte queste azioni e quindi per esempio un consiglio che ti posso dare è quello magari non di chiedere lascia like in modo esplicito, ma chiederlo se effettivamente ha senso, oppure uno dei primi test che ho fatto era mettere una specie di sondaggio, quindi chiedere se le persone preferivano una cosa piuttosto che un'altra. Quello le portava a commentare e quel contenuto effettivamente è andato bene. Questo diciamo è anche il motivo per cui molte volte quando vedo dei contenuti che vanno male o mi esce sui per te, per esempio, un contenuto che ha 10 like, 0 like, 100 like, ma poi rimane così fermo e morto. Ecco, lo vedo e riesco a capire questa cosa perché non c'è nulla che mi porti a guardare tutto il video, nulla che mi porti a fare un'azione di mettere like perché il contenuto non ne vale la pena, non ha senso. Magari ogni tanto vedo dei TikTok pieni di effetti, senza senso, musiche, persone che non fanno nulla e quindi quello è chiaro che è un contenuto che non può funzionare. Questa cosa poi la svilupperai sicuramente nel tempo, quindi capire quando hai un sacco di contenuti quello che va meglio, quello che va peggio e quindi andare all in su ciò che ti porta risultati. E simile a questo primo punto, la seconda cosa che ho capito è che se la persona che vede il nostro video lo vede fino in fondo o lo guarda più volte, ecco TikTok è una cosa che capisce e che apprezza. Quindi maggiore è il tempo, la percentuale per cui una persona vede il tuo video, maggiore quel video significa che insomma ne vale nuovamente la pena. È una cosa simile che accade anche su YouTube, quindi la percentuale di quanto il tuo video viene visto che aiuta appunto la piattaforma a convalidare quel contenuto. Infatti per esempio ogni tanto mi capita di vedere dei contenuti che effettivamente ti tengono lì fino alla fine, magari alla fine non c'è niente di così assurdo, però quel contenuto ha un sacco di like perché sulla percentuale delle persone che lo vedono una piccola percentuale, che comunque sono tante persone, mettono like. Quindi magari mi capita di vedere dei contenuti da un milione di visualizzazioni che hanno 10.000, 20.000 mi piace proprio per questo motivo. Oppure un'altra cosa vincente che ho visto fare da alcune ragazze è per esempio mettere un frame di pochissimi secondi, il che invoglia le persone a riguardare il video più volte per cercare di fermarlo in un determinato punto, il che dice alla piattaforma ogni singola persona guarda questo video almeno tre volte. Ciò significa che è un bel contenuto, spingiamolo di più. Poi sempre collegandoci al primo punto ti dicevo che ogni tanto vedo dei contenuti estremamente ripieni, no? Di effetti, di suoni eccetera eccetera e qui mi porta al terzo punto, ossia quello di postare dei contenuti semplici e di qualità, che questa può sembrare una cosa molto banale effettivamente, però è una cosa che ho testato, quindi i primissimi video che facevo erano molto più elaborati, soprattutto sul mio profilo personale. Quindi mettevo molto più spesso dei testi per esempio che quasi andavano sottotitolare quello che dicevo, mettevo magari delle immagini in più, degli sticker, perché su TikTok puoi aggiungere delle foto che hai appunto nella galleria, vabbè è una cosa banale, però ne aggiungevo un po' di più per capire poi effettivamente mettendone zero o mettendo uno o due testi se cambiavano le cose. Effettivamente non penso che ci sia un vero motivo o una vera correlazione tra quante più cose metti all'interno del video e insomma quanto meglio possa andare quel contenuto, quello che però ho visto è che non è così importante e anzi non mettendolo ma puntando tutto su quello che dice all'interno del video probabilmente è anche meglio, nel senso che una cosa che ho capito che apprezza TikTok è appunto diciamo la semplicità intesa anche a livello probabilmente di editing, quindi il fatto che magari non ti metti a importare un contenuto che hai scaricato prima ma lo crei direttamente dalla fotocamera, dalla piattaforma, editi il tutto nella piattaforma di TikTok e lo vai a lanciare. Questo è anche uno dei motivi per cui effettivamente sul mio profilo personale tutti i contenuti ripeto che fado a postare io con la mia faccia dove filmo un qualcosa hanno praticamente tutti minimo un migliaio di visualizzazioni, poi qualcuno va sotto ma mai sotto le 3-4-500 view che effettivamente per avere 4000 follower e diciamo su TikTok essere nessuno sono un sacco di visualizzazioni rispetto ripeto ad altri profili che hanno un sacco di follower in più ma hanno dei video che fanno 10-50-100 visualizzazioni neanche like e diciamo che questo è un po' il motivo. Stessa cosa l'ho potuta testare con la mia pagina dove alcuni contenuti proprio non vanno e addirittura li tolgo perché mi fanno magari 50 visualizzazioni. Perché? Perché li importo da appunto un editing dove non compare la faccia di nessuno, musica, foto standard e quindi questo è il motivo per cui non funzionano. Il quarto punto tassativo su questa piattaforma premiato a mio parere più di ogni altra cosa è invece la costanza quindi il discorso qui che ti consiglio è quello di postare un paio di contenuti al giorno. In realtà questo consiglio te lo sto dando ma lo utilizzo anch'io a metà. So che postare due contenuti al giorno porta risultati perché soprattutto sulla pagina dove lo andavo ad utilizzare effettivamente vedevo che aumentavo le probabilità se non altro di andare virale. Questa è effettivamente la chiave quindi sul mio profilo personale questo potrebbe aiutare assolutamente sì ma lo faccio forse anche per mancanza di necessità in effetti. Però su quello che invece deve essere il lavoro che vai a fare tu e il lavoro che faccio sugli profili del mio store è effettivamente un posting continuo. Perché? Perché postare più volte non significa che posti tre volte quindi il primo di questi tre post magari non viene spinto abbastanza perché ricordiamoci che tutti i contenuti vengono spinti su delle home page, dei per te insomma differenti però ecco il concetto qui è che aumentando il numero di contenuti aumenti le probabilità di andare virale. Quindi il mio consiglio qui è quando hai il tuo prodotto fisico diciamo e fai contenuti per il tuo profilo TikTok inizia a veramente postarne un sacco ma sempre ripeto tenendo a mente le regole che ti ho detto un paio al giorno 2 barra 3 ecco magari metterei un cap massimo di tre sempre però contenuti studiati. Così ripeto se tutti i contenuti sono fatti bene avrai un minimo di visualizzazioni per ognuno come quello che ti dicevo prima per quello che è il mio caso personale quando uno di questi va virale allora quello è il momento di andare a sfruttarlo quindi continuare a postare contenuti simili e cercare di replicare quello che ha funzionato. E come ultimo punto parlerei di quelli che sono gli hashtag e i suoni. Qui ho testato tutto quindi mi sono messo lì con un bel po' di video a testare questa cosa all'inizio quello che testavo che mettevo su ogni singolo contenuto erano dei suoni virali suoni oppure canzoni canzoni in trend quello che puoi fare in questo momento o nel senso come funziona TikTok quando posti un contenuto puoi aggiungere un suono o magari puoi aggiungere una canzone che sta andando virale effettivamente sulla piattaforma lo capisci molto facilmente perché scorri per te e te ne trovi un sacco quindi puoi fare il tuo contenuto e dire tutto quello che vuoi mettere quello che insomma vuoi e poi andare a mettere un suono e ridurre a zero il volume della musica in questo modo il tuo contenuto risulta comunque tra i suoni tra il tuo suono o nel suono che hai utilizzato ma senza che si senta e questo è un modo interessante per iniziare a fare un po' di visualizzazioni o sfruttare un trend per diciamo ricadere no in tutte le persone che ci guardano e quindi avere più visualizzazioni però vi dico la verità non ho notato una percentuale così estrema di differenza tra dei contenuti dove uso il suono e contenuti dove non ne utilizzo ho ripeto testato sia in un modo sia nell'altro e in effetti non vedo questa grossissima differenza e la stessa cosa riguardo gli hashtag riguardo gli hashtag ancora meno nel senso che gli hashtag che uso per esempio sulla pagina sono non lo so motivazione l'hashtag che uso sul mio profilo è e-commerce dropshipping però gli hashtag risultano diciamo vincenti nel momento in cui qualcuno li ricerca e vede il tuo contenuto oppure magari questa è una cosa che ipotizzo se qualcuno mette like a tanti contenuti con uno stesso hashtag allora tiktok pusherà il tuo contenuto sulla home page di quella determinata persona se usi anche tu quell'hashtag questa ripeto è una ipotesi sto ancora capendo bene come funziona l'algoritmo e come sfruttarlo al massimo però ecco gli hashtag sono importanti più che altro secondo me per definire un po quello che è il tuo profilo agli occhi della piattaforma è un concetto simile a quello che fa instagram quindi molto molto simile a questo discorso degli hashtag dove anche qui per andare virale o prendiamo per esempio dei contenuti di influencer con milioni di follower effettivamente le loro caption non usano mai più gli hashtag eppure fanno milioni milioni di visualizzazioni e poi di like su instagram quindi il discorso è molto simile non credo ecco che gli hashtag siano così funzionali ma più che altro magari ne aggiungo io sempre 2 barra 3 per dare ripeto questa impronta a quello che è il mio profilo e anche per far capire un po a tiktok cosa sto facendo infine in aggiunta a questi cinque punti il sesto potrebbe essere un punto di consiglio più che altro nel senso se vuoi avviare appunto il tuo store drop shipping con questa piattaforma sfruttando tutto il potenziale di viralità e di traffico organico quello che ti consiglio come strategia è veramente semplice quindi ricapitolando ordina il tuo prodotto crea un profilo tiktok e comincia a postare cerca di guardare per te cerca di capire degli store magari competitor su tiktok come postano che tipo di contenuti postano come vanno a comunicare che suoni utilizzano vai a replicare questo concetto posta contenuti con costanza seguendo i tasselli che ti ho spiegato quando trovi qualcosa che funziona vai all in su quel genere di contenuti e continua in questo modo quindi io spero che questo video ti sia piaciuto perché questi erano i sei punti 5 più 1 diciamo le 5 più 1 cose che ho capito che ho imparato nel mio percorso fino ad oggi su tiktok sicuramente se vi piace magari vi porterò un aggiornamento più avanti per capire come siamo messi a che punto siamo ma ancor più importante se volete una sfida di 7 giorni partendo totalmente da zero e rivelando tutto ciò che vado a fare vi invito a lasciarmi un mi piace a questo video commentare qua sotto farmi sapere se voglio la sfida per esempio una cosa del genere così che l'andrò a preparare e ve l'andrò a portare quindi io vi ringrazio della visione di questo video e noi ci vediamo alla prossima